6,86% dei campioni analizzati e questo è il tasso di positività rispetto a 4052 tamponi analizzati nelle ultime ore da cui sono emersi 278 nuovi casi di positività al covid-19. Dei nuovi positivi il più giovane a sette mesi e il più anziano 95 anni, quelli con meno di 19 anni invece sono 36. Purtroppo ci sono ben 21 nuovi decessi, anche se 11 risalgono a giorni orsono e sono stati soltanto oggi comunicati dalle ASL. Le morti riguardano persone di età compresa fra i 66 e i 97 anni. Alla luce degli ultimi dati il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 1.206. Gli attualmente positivi sono 236 in meno e scendono a quota 11.036. 432 persone sono ricoverate in ospedale, meno 19 rispetto a ieri, di cui 36, meno 2 al netto di 4 nuovi ricoveri, decessi e dimissioni, sono in terapia intensiva. Altri 10.578 meno 215 sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 493 per un totale di 22.616. Del totale complessivo dei 34.858 casi abruzzesi da marzo ad oggi, 10.913 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 7.058 in provincia di Chieti, 7.086 in provincia di Pescara, 9.346 in provincia di Teramo. 279 provengono da fuori regione e per 176 sono in corso le verifiche sulla provenienza.